Battuta di arresto per la Trigano di Paglieta, primo produttore di veicoli ricreazionali in Italia e primo produttore in Europa di van. Dopo la crescita esponenziale, con premi di risultato, investimenti e circa 160 stabilizzazioni a tempo indeterminato solo dal 2021 ad oggi, la Trigano va in sofferenza come tutto il settore della camperistica. Fra le cause, dicono Fium CGL e Fium Cisli in una nota congiunta, sicuramente la fine della bolla gonfiata dal Covid, come anche l'insicurezza dovuta alla crisi economica che sta colpendo l'Europa. In questo momento l'azienda non soffre di mancanza di chassi dal fornitore, ma precisano i sindacati di una mancata richiesta di mercato, che colpisce maggiormente i produttori di van e che sta mettendo a rischio livelli occupazionali. L'azienda si sta riorganizzando e punta molto sulle fiere di settore, che si terranno in vari paesi d'Europa nei prossimi mesi. Nel frattempo tuttavia è stato deciso di non rinnovare il contratto a tempo determinato per circa 100 persone. Oggi lo stabilimento conta 482 addetti. Scongiurata la ristrutturazione aziendale, il tavolo della trattativa sindacale si è arenato sull'istituzione del bacino, strumento dove far confluire i nominativi dei lavoratori che non vedranno il rinnovo del contratto. Sciopero di quattro ore già svolto lunedì scorso, altre quattro ore di astensione del lavoro ci saranno domani, venerdì 26 luglio. Andrea De Lutis, FIOMCGL Chieti. Per noi è un obiettivo importante quello di portare a casa la creazione del bacino delle lavoratrici e dei lavoratori che nei prossimi mesi usciranno dalla Trigano. Dal canto suo l'azienda ci fa sapere che si sta preparando per i prossimi, per le prossime fiere che si daranno da qui a fine mese e a fine anno in tutta l'Europa. Aggrediranno, ci fanno sapere in maniera importante il mercato per cercare di sbaragliare la concorrenza e conquistare più quote possibili di mercato. Purtroppo questa è la prima volta che la Trigano conosce un momento di crisi auspichiamo che ci sia una ripresa del mercato e continuiamo a pensare che per tutta la Val di Sangro e non solo per la Trigano sia necessario arrivare ad un'unitarietà sindacale per cercare di portare anche la politica, insieme alla politica, costruire le condizioni per salvaguardare tutto il tessuto industriale della Val di Sangro che da oramai tanti mesi dà segnali di forte inversione di tendenza.